No, invece so, io ho i miei italiani Cogli, parla italiano, vero Cogli? Cogli, parla italiano, vero E' strano, no, è veramente, arrivare al lavoro, buongiorno, il traffico era terribile, ecco sono nudo, ora cominciamo, però tutto, tutto è true, l'hanno visto tutto. Ero anche in una posizione fortunata, che non interessavo a niente, neanche Kevin Bacon, io non interessavo a Kevin Bacon, nemmeno io, lui, però la donna era una cosa più delicata, tutti fanno la tua impressione, il fatto che tu non devi essere nudo davanti ai colleghi, questo è l'unico, tutti dicono, ma io non ho prodotto tra i quali, ma... Invece, stranamente una barriere, non è traversata, non è così, è così difficile. Grazie. Grazie. Grazie.